L'aglione della Valdichiana è ormai diventato una superstar dell'agroalimentare a retino, toscano e nazionale con un indotto economico sempre più evidente. Il famoso aglio del bacio, dal profumo intenso ma senza effetti collaterali, al consumatore piace, sia italiano che straniero. Da qui l'esigenza di tutelarlo, prima con l'Associazione Aglione della Valdichiana e adesso con il percorso che porterà al riconoscimento della DOP IGP. L'Associazione nasce nel 2017 per volontà dei comuni della Valdichiana sia a Senese che a Retina. Abbiamo per la prima volta tolto questo vincolo anche territoriale e geografico perché tutti i comuni erano interessati a valorizzare questa eccellenza della Valdichiana. Sicché 11 comuni della Valdichiana a Senese e a Retina e all'epoca circa 20-25 soci produttori. Ad oggi, come sempre i soci pubblici, ci sono in questo momento oltre 50 produttori. Che non nel 2022 perché ancora non abbiamo le stime ma nel 2021 hanno prodotto oltre, sono i nostri produttori, oltre 1.000 quintali di prodotto. La domanda è superiore all'offerta e se vogliamo stimare e fare il conto della serva abbiamo un indotto di quasi 2 milioni di prodotto. Dopo l'esperienza bellissima dell'Associazione che valorizza, tutela e promuove, noi stiamo andando verso, anzi abbiamo già iniziato il percorso che ci porterà alla DOP di questa eccellenza. Perché vogliamo tutelare sia i produttori ma soprattutto i consumatori. Perché l'aglione viene prodotto in tutto il mondo e in tutta Italia, però solo l'aglione della Valdichiana ha quelle caratteristiche perché la biodiversità del territorio riconosce dei valori e delle qualità superiori rispetto agli altri. Per far questo noi abbiamo ampliato l'areale che non è solo la Valdichiana a Senese e a Retina, ma andiamo alla vecchia Valdichiana di vecchio clanis etrusca che coinvolgente anche i comuni che sono intorno al lago Trasimeno per dare una risposta maggiore sempre alla nostra bellissima Valdichiana.